Sì, lei ha toccato uno dei nervi scoperti della discussione che noi abbiamo svolto in questi anni con gli amici, i colleghi del Lanci e poi delle rappresentanze delle aziende di raccolta. Cioè quella di riuscire, come correttamente diceva lei, a immaginare, se non un solo modello, almeno una serie di modelli che consentissero una standardizzazione della raccolta e quindi potessero facilitare anche l'attività dei cittadini. Perché correttamente e giustamente lei dice, ma io devo sapere se a Milano, per esempio, la carta la metto in un contenitore che è di colore bianco e poi vado in vacanza magari a Pietrasanta o in Versiglia e lì il contenitore della carta è blu o giallo o di altri colori. Ecco, questo è senz'altro uno dei grossi problemi che noi abbiamo cercato di affrontare ai noi con scarsi risultati. Devo dirle, ma è una annotazione se vuole di cronaca, che stiamo cercando di andare a monte, visto che non siamo riusciti in questa discussione abbastanza banale in realtà, anche se dietro ha poi delle problematiche organizzative che sono legate appunto alla presenza sul territorio di attrezzature che costano, che quindi fanno parte degli asset delle imprese di raccolta. Stiamo cercando di andare a monte e quindi siamo entrati a far parte di una commissione internazionale che è quella che dovrà determinare, una commissione EN, quindi CEN, come si dice per gli attetti dei lavori, che dovrebbe stabilire una norma europea e quindi ciò che non si riesce a fare a livello nazionale forse si riuscirà a fare con l'intermediazione dell'Europa che ogni tanto ci consente anche attività di questo genere. Ma in realtà la sua domanda, se me lo consente, ha dietro anche altri richiami ai consumatori. Tutti quelli che mi hanno pregiunto hanno parlato di green economy e di che cosa potrebbe portare questa nuova attenzione all'ambiente. Allora io faccio un richiamo a Copenaghen. Copenaghen, che ci sarà appunto a metà dicembre, dovrà discutere di tre aspetti importanti, cioè la famosa riduzione 20-20-20. 20% di energia rinnovabile, 20% di risparmio energetico e 20% di riduzione di CO2. Mi chiedo perché, visto che l'attività di riciclo ormai è acclarato, consolidato, che comporta una riduzione e un risparmio di materie prime, di risorse energetiche e quindi di CO2, non possa diventare il quarto 20, e cioè non si possa pensare di inserire fra questi obiettivi, con un'attenzione specifica al riciclo, che è un pezzo importante della green economy, anche una riduzione del 20% delle materie prime impiegate nei processi industriali. Appunto, potendo fruire su queste che noi chiamiamo le miniere metropolitane, e cioè l'utilizzo dei rifiuti come se fossero materie prime, ed è quello che in realtà sta avvenendo. Seconda notazione è che, lo diceva prima Pedretti e Ruini, il consumatore dovrebbe sempre più spingersi verso un consumo consapevole, Che cosa vuol dire consumo consapevole? Vuol dire avere un'attenzione negli acquisti a quei prodotti e quei beni che consentono una riduzione poi dei rifiuti a fine vita. Quindi comprendere il valore del bene e spostare gli acquisti verso questi prodotti che danno queste maggiori garanzie. E infine, lo dico anche qui perché è uno degli aspetti che dovremo affrontare in futuro, cioè pensare alle città che devono essere più ecosostenibili. Anche qui faccio un esempio per dimostrare come può essere affrontato in maniera molto semplice, quasi banale, La questione dei rifiuti e della loro valorizzazione. Negli anni 30 a Milano, ma anche in altre città italiane, si costruiva e nelle case esisteva una sorta di tunnel In cui poi venivano scaricati i rifiuti che in basso avevano un contenitore in cui venivano raccolti. Ecco, oggi uno che costruisce una casa o che ristruttura una casa o che va a stare in un condominio, prima di poterci abitare deve poter fare l'allacciamento alla rete gas, l'allacciamento alla rete idrica, l'allacciamento alla rete metano, l'allacciamento alla luce elettrica, l'allacciamento alla ADSL, addirittura perché ormai non si può più fare a meno di internet, non c'è una logica che prescriva un allacciamento al network dei rifiuti. Allora, è una banalità, ma se uno mettesse nel regolamento edilizio che l'abitabilità viene concessa soltanto laddove venga dimostrato che vi sono degli spazi sufficienti all'interno di una cucina o negli spazi condominiali che consentono una separazione corretta dei rifiuti e un allacciamento corretto al sistema, al network dei rifiuti, ecco che avremmo fatto un grosso passo avanti nella costruzione di una città che grazie a tutti questi comportamenti diventa veramente più ecosostenibile.